due passaggi non ti fidi di nessun essere vivente come cosa è bruttissima non è bellissima e su questa cosa io ti chiedo non da giornalista non da ma da fan da fan a versano a versano quindi a pochi chilometri come la risolviamo robé cioè come come non puoi morire così cioè non puoi morire così sai cosa razionalmente puoi provare a realizzare a realizzare un cambiamento e a risolvere ma poi dentro è quello che senti cioè secondo me ci sono delle dei momenti in cui quello che hai vissuto ti porta a non fidarti mai completamente c'è sempre un pezzo di cui non ti fidi succede a tutti coloro che hanno a tutti coloro che hanno subito dei traumi succede sempre no in genere non ci si fida del corpo infatti a me succede una cosa pazzesca che quando mi tuffo io ho sempre nuotato adesso provo disagio in acqua quindi quando ho chiesto esperti mi hanno detto succede anche a chi fa incidenti non ti fidi più delle tue gambe le tue braccia il tuo corpo oppure quando si torna da un fronte no e mi succede uguale in acqua sto a disagio mentre prima era il mio habitat naturale ho fatto persino pallannuoto per anni non lo so come risolvimma dove ti vedi tra vent'anni vivo è già abbastanza grazie 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 grazie